Un alloggio di 200 metri quadrati nel cuore di Napoli confiscato alla Camorra ospiterà Casa Comune il primo progetto di co-housing rivolto a ragazzi affetti d'autismo. Ideato e realizzato da Focus Fondazione Quartieri Spagnoli, Consorzio Core e Associazione Quartieri Spagnoli, riuniti in un'associazione temporanea di impresa, l'appartamento è stato assegnato dal Comune di Napoli e si trova in via del formale a ridosso di Piazza Carità. Sono felice, io ho la delega alla gestione dei beni confiscati e oggi questa evidenza della valorizzazione di un bene confiscato per un'attività così bella viene ristrutturata anche con fondi privati è veramente la magnifica rappresentazione di quello che noi vorremmo fare con tutti i beni confiscati. È un po' il segnale di un lavoro che noi stiamo facendo su questo patrimonio che è anche importante alla scala urbana e che deve essere appunto impiegato per fini pubblici, per utilità collettive e quale utilità collettiva migliore di questa. Due piani più un terrazzo di copertura saranno completamente ristrutturati a partire dal mese di marzo grazie ad un innovativo programma di finanziamento sociale con la partecipazione di Guber Banca ed il supporto di Fondazione Etica. Una banca bresciana, una banca privata bresciana ha aperto un conto deposito per i propri correntisti in Italia e europei per il quale chi aderisce a questo conto lascia una parte dei propri interessi a questo progetto napoletano. Questa parte di interessi sarà raddoppiata dai fondi della banca e permetterà di ristrutturare l'appartamento in via del formale che diventerà la sede di questo primo co-housing e di questo primo spazio quindi dedicato all'autismo. Penso che questo conto deposito abbia avuto una grande funzione nel suo piccolo per smuovere le coscienze perché comunque abbiamo avuto 200 depositanti che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto rinunciando a una parte dei loro guadagni per poter sponsorizzare. I locali sono destinati ad accogliere gli ospiti di Argo, centro di abilitazione diurno promosso da Focus nel 2016 per giovani e adulti con disabilità cognitive che seguiti da operatori qualificati saranno coinvolti in percorsi di autonomia, di socializzazione e formazione mirati anche all'inserimento nel mondo del lavoro. Dà la possibilità non solo di un vero e proprio inserimento nella vita sociale, nella nostra comunità ma soprattutto alleggerisce le fatiche delle famiglie. Bisogna creare più progetti come questi, non solo dal punto di vista abitativo ma anche l'inserimento lavorativo, la vita autonoma iniziare a parlare di argomenti che noi non vogliamo considerare come l'affettività, la sessualità. Va fatto un processo non solo sociale ma anche culturale. Il progetto Casa Comune prevede anche weekend di accoglienza per operatori sociali di altre città che potranno visitare la Napoli solidale e le realtà locali più significative del terzo settore.